Come di consueto, Conad Superstore invita bambini e famiglie a passare insieme una domenica pomeriggio diversa e divertente, piena di allegria. Torna l'imperdibile appuntamento con l'animazione e i giochi dedicato ai più piccoli. Domenica 13 ottobre da Conad dalle 16 alle 20 intrattenimento per bambini con il ritorno del coloratissimo truccabimbi e per merenda tanto gusto con sfiziose patatine e popcorn. Impossibile mancare da Conad Superstore, in via Appia, chilometro 119, aperto tutti i giorni anche la domenica con orario continuato dalle 8.30 alle 21.